Interesserà ben 22.000 operatori del commercio su aree pubbliche il decreto di presa d'atto della normativa adottata dalla conferenza Stato-Regioni emanato dall'assessore regionale all'attività produttiva e Mariella Lobello su rilascio delle concessioni di posteggi per l'esercizio commerciale su aree pubblica. Il provvedimento, afferma Lobello, si inquadra nell'ambito di un più ampio impegno che abbiamo assunto per l'ammodernamento, la semplificazione amministrativa e il sostegno al settore del commercio e consentirà una vasta platea di imprenditori interessati di superare una situazione di incertezza che in assenza dell'adozione di questo decreto avrebbe determinato un vero e proprio caos. Infatti, spiega ancora Mariella Lobello, la vigente normativa entrerà in vigore tra maggio e luglio 2017. Da qui ad allora, continua Lobello, i comuni avranno il tempo di emanare i bandi per procedere all'assegnazione delle aree pubbliche entro le date di scadenza. Le nuove disposizioni e nuovi criteri di applicare nelle procedure di selezione, conclude l'assessore Lobello, tutto concordato con le associazioni di categoria, vengono incontro ad esigenze di carattere occupazionale e sociale dei commercianti, senza discriminazioni o vantaggi ingiustificati per le imprese di maggiori dimensioni. Grazie a tutti.